E' Padova la capitale veneta dell'inquinamento, nonostante il 2018 si sia rivelato un anno migliore dei precedenti. A guidare la classifica veneta c'è la centralina di Granze, non solo condivide con quella di via Tagliamento a Venezia il primato di 63 giorni oltre il limite consentito di PM10, ma si piazza al primo posto per concentrazione media annuale con 37 microgrammi al metro cubo di PM10. Nella classifica ci sono però anche altre due centraline padovane che si piazzano i vertici, un tema quello dell'inquinamento atmosferico che divide la città. Nelle ultime ore ad intervenire nel dibattito è stata la Confesercenti che ha sottolineato come l'obiettivo sia la pedonalizzazione, a patto che sia accompagnata da servizi alla clientela. Per quanto riguarda la demonizzazione delle auto, hanno sottolineato i rappresentanti dei commercianti, è giusto ricordare che l'alta percentuale di polvere sottili connesse al traffico su strada non dipende solo dai gas di scarico dei veicoli. Il blocco delle auto non serve a niente se è l'unica misura anti-inquinamento, sicuramente una tutela agli amministratori che in questo modo non incorrono in sanzioni. Corriamo però il rischio di girare attorno al problema, scrivono ancora i commercianti e non trovare le soluzioni. A quanto pare una soluzione che garantisca la saluta di tutti e provi a far andare tutti d'accordo è diventata invece improrogabile.